È il quarto o quinto anno che prendiamo questo riconoscimento, siamo veramente soddisfatti perché significa che diamo un ottimo servizio sia a spiaggia che a bar che a ristorazione quindi non possiamo che esserne soddisfatti. Noi qui gestiamo il locale in un contesto regionale dove noi si protetta a livello floristico internazionale. Cioè qui ci sono ancora le vecchie dune mediterranee che non si trovano più in nessun altro posto della riviera Adriatica. Per questo noi gestiamo anche il locale a livello ecologico facendo anche un servizio con dei piatti riciclabili quindi l'inquinamento da sapone e da detersivi è quasi zero da noi.